Ciao bimbi, come state? Tutto a posto? Oggi vi propongo un'attività di pittura. Faremo il nostro prato fiorito. Siete pronti? Vi servono dei colori a tempera, un pennello, un bicchier d'acqua per poi sciacquare il pennello, un foglio bianco e una forchetta. Allora, iniziamo facendo gli steli dei nostri fiori nel nostro prato fiorito. In questo modo qua vi faccio vedere. Mettiamo un po' di verde in un piattino, ok? Con il pennello andiamo a intingere il colore e facciamo i nostri steli. Io ve ne faccio un paio, giusto per farvi capire. In questo modo qui. Questi sono i nostri steli dei fiori, va bene? Poi sciacchiamo il pennello e mettiamo un colore che ci piace. Io ho messo il rosso, sempre nel piattino. E andiamo a intingere nuovamente il pennello nel colore rosso. Questa volta però non disegniamo direttamente nel foglio, ma lo mettiamo nella forchetta. Quindi dipingiamo inedietro della forchetta. In questo modo qui. Ecco fatto. Adesso la forchetta la andiamo ad adagiare nel foglio in prossimità del nostro stelo. Quindi sopra il nostro stelo, va bene? Schiacciamo per bene. Bene, 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 bene. Ecco, deve venire fuori una cosa simile. Va bene? Lo fate per tutti e quattro gli steli, ok? E vi verrà fuori, con tanti colori diversi ovviamente, perché i fiori hanno anche colori diversi. E vi verrà fuori questo risultato. Poi ci fate un po' di erbetta sotto. Se volete ci fate anche il sole. E il vostro prato fiorito è pronto. Ok? Benissimo, siete stati molto bravi. Mandatemi i vostri disegni. Un bacione. Ciao!